Musica Amici benvenuti ad un nuovo appuntamento di Viaggio Molise, siamo ancora a Yelzi, ancora alla festa di Sant'Anna, festa del grano edizione 2017. Venite con noi a scoprire le bellissime strutture proposte quest'anno. Siamo con Peppe Pasquale del carro La Memoria in un chicco. Ebbene, quest'anno davvero che a Yelzi vi siete superati, poi lo diciamo tutti gli anni perché davvero con la fantasia voi siete capacissimi di andare oltre. Quest'anno voi avete realizzato una struttura, una meravigliosa opera in 3D. Insomma Peppe, dicci un po', come vi siete ispirati? Niente, noi ci siamo ispirati a un artista americano, un certo Chad Gnard, il quale, come dire, congepisce al computer queste opere in 3D un po' surreali. E tra tutte quante, fra l'altro lui si è proposto di fare un'opera al giorno. Per noi ci è piaciuta questa qua perché è un'immagine così molto potente. Questa è praticamente l'immagine, il volto di una donna con il volto all'insù e i capelli indietro. Eh sì, nella congezione originaria è come esce dall'acqua, no? Allora noi l'abbiamo fatto uscire dal grano, per cui abbiamo usato un po' le tecniche della costruzione dei carri per la realizzazione. Fra l'altro l'autore, queste opere non sono mai state realizzate, forse noi per la prima volta le abbiamo realizzate, sarà contento. Quindi in qualche modo potrete fargli avere il video della vostra opera e magari vi ringrazierà. Siamo con Mattia, giusto, quanti anni hai? Sei. E Lorenzo, Lorenzo tu quanti anni hai? Quanti anni hai? Se, eh, tre. Tre anni. Allora, voi che cosa avete realizzato? Come si chiama il vostro carro? Lo schiaccianoci. E tu infatti sei vestito proprio dal personaggio protagonista? Sì. Come mai vi è venuta questa idea? Perché l'abbiamo studiata a scuola. Chi vi ha aiutato a realizzare questo bel carro? La famiglia. In famiglia. Che cosa c'è sul carro? Descrivicelo un po'. C'è... Il soldatino? Il soldatino, lo schiaccianoci e il re dei topi. C'è un altro schiaccianoci che salva Krala dai re dei topi. Vi siete divertiti? Sì. Ed eccoci qui accanto ad un altro carro insieme a due dei protagonisti. Allora, voi come vi chiamate? Alessandro. E tu? Massimiliano. Quanti anni hai, Massimiliano? Cinque. E tu? Otto. Ad agosto ne faccio otto. Benissimo. Allora ragazzi, questo l'avete realizzato voi, la vostra famiglia, giusto? Sì. Chi vi ha aiutato? Mamma, nonna e nonno. Vi siete divertiti? Sì, tantissimo. È stato faticoso anche mettere tutti questi granelli di chicchi di grano, giusto? Un po'. Allora è stato bello poi stare in famiglia e lavorare questo materiale così bello e così tradizionale qui a Yelsey. Voi siete di qui? Sì, sì. Sono contenta di essere qua, che è una cosa straordinaria, non ho parole, è bellissimo. Voi da dove venite? Dalla Germania. Dalla Germania, siete qui in ferie, dove? In ferie a Baranello, perché siamo nativi di Baranello. Quindi vi hanno condotto qui oggi a Yelsey, che ve ne pare? Visione, prima cosa, poi me l'hanno detto, ho detto ci dobbiamo andare perché è una cosa da vedere e sono contentissima. Quale vi è piaciuto di più? È veramente difficile a dirlo perché adesso è stato un primo sguardo, dover ritornare indietro e approfondire lo sguardo per dire, sono tutti belli. Anche la decorazione, i lavori che ci hanno fatto, magnifico. Lei di Baranello proprio viene spesso? No, è la prima volta, pure per me. È la prima volta anche per me? Pure per me, sì. A volte vede il Molise, è così bello da scoprire che... Prima di vedere altri posti dobbiamo conoscere bene il nostro Molise e poi possiamo uscire fuori, io la penso così. Siamo con il signor Donato qui davanti alla sua traglia, davanti al suo carro che ha realizzato in maniera davvero completa, anche un po' artistica. Vedo quest'anno che avete anche messo qualcosa che si usava una volta, no? Sì, è una taglia tradizionale, diciamo, le prime antenate queste così si usavano, in poche parole, tutto con queste collettricce perché altre cose... Non avevano tempo per prepararle, forse è necessario che si partecipavano. Diciamo che ci sono poi simboli proprio della vita quotidiana, della vita contadina, infatti che cosa ci avete messo vicino? Sì, sempre queste usavano i contadini quando andavano a mietere il grano. Si dissetavano. Si dissetavano e lo stesso usavano quell'attrezzatura per mietere, per raccogliere il grano, ecco qua. Ecco, invece queste creazioni che avete realizzato, eccoci, eccoci qua, come si chiamano? Questi li chiamavano, gli antichi palombo, li chiamavano, adesso non lo so che queste moderne, ma io maggior parte ho fatto roba antica, a me mi piace partecipare tutta all'antica e al moderne. Diciamo che sono passate oltre 200 edizioni di questa festa del grano di Sant'Anna, ma lei che ricordo ha di quando era piccolino? Io quando ero piccolino ricordo che la giornata più bella, diciamo, che durante l'anno era Sant'Anna, perché, diciamo, quando era la giornata di Sant'Anna, mia madre mi comprava il gelato. Quanto costava il gelato? Costava, diciamo, 5-10 lire, proprio, ma per fare 5-10 lire non è che era facile a quei tempi. Quindi che si faceva? Si usciva? Quindi che si faceva? Si usciva per il paese? Cosa facevate? Si usciva per il paese, si portavano i denti che pure, le traglie si preparavano e dopo si faceva la sfilata, come si usa adesso. Questa è molto antenata, diciamo, questa sfilata. Ma cosa si mangiava? C'era un pranzo dedicato alla Santa? Perché maggiormente si mangiava, diciamo così, a Sant'Anna il pollo, il pollo, perché era, diciamo, c'era il pollo in contadina, io mangiavo il pollo, perché l'unico animale che mi potevo mangiare era il pollo. Gli altri animali non avevamo soldi per comprare la carne e mangiavamo il pollo. Ma le cose sono cambiate? Una cosa che non cambia è la devozione alla Santa? Oggi questa giornata, diciamo, nel cuore, diciamo così, perché io mi piace partecipare, perché siamo due persone che abbiamo fatto, pure le mucche, diciamo, quando arrivi un mese in più ci mettiamo per prepararle, per farle, per dire, diciamo così, è necessario che si partecipi. Bene, allora noi con il signor Donato ringraziamo per la sua testimonianza di vita passata, vi ringraziamo cari amici telespettatori, quindi terminiamo questa... Speriamo che oggi è una splendida giornata, magari questo lavoro che abbiamo fatto, diciamo, viene, diciamo, la gente lo osserva, la vita, e rimane per soddisfatto, ma, diciamo, arrivederci all'anno prossimo. Arrivederci, alla prossima puntata. Grazie a tutti.